Credo che questo sia un intervento, sia un pagliativo immediato, questa notte già sono di nuovo incagliate alcune imbarcazioni, per ripristinare un minimo di funzionalità, ma quello che ho visto qua a Pescara è incredibile, cioè che ci sia stata una latitanza di questo tipo negli anni, l'ultima nave commerciale è entrata nel 2014 e praticamente aperta una diga foranea senza avere già un'analisi di via completata su tutta l'infrastruttura complessiva, credo che ci siano delle responsabilità molto forti, attiveremo immediatamente un tavolo tecnico, io una settimana fa ho scritto circa il provveditore delle opere pubbliche, dobbiamo trovare una soluzione d'urgenza che consenta intanto di svuotare la vasca di colmata prima dell'inizio della stagione estiva e dobbiamo dare una certezza su un riutilizzo del porto di Pescara a livello commerciale, d'altra parte fa parte di un'autorità di sistema a livello nazionale proprio per il fatto che è un porto commerciale, oggi non è un porto commerciale e tanto è vero che addirittura i pescatori e i pescherecci fanno fatica a trovare in questo un approdo sicuro. L'altro tema è come cercare di sveltire le procedure sia via regionale che nazionale e soprattutto al limite di procedere anche a un commissariamento nel caso con un commissario straordinario sulle infrastrutture dedicate proprio al porto di Pescara, è chiaro che da questo punto di vista a livello normativo dobbiamo capire i percorsi possibili, ma visto che il governo si occuperà nei prossimi mesi di uno sblocca cantieri, credo che il cantiere più importante da sbloccare sia proprio quello del porto di Pescara.